Allora accetto la sfida di DJ Matrix sulla Papu Dance Challenge e nomino Giulia Delellis103, Stefano Corti e Bravo Alvin. Mi raccomando scaricatela tutti. Il mio figlio accetto la sfida di nomino Valentina Migliani, Cappan Tutti e Stefano Mazzoni. Ringrazio Sonia per la nomination, io nomino Mattia Marciano, Giorgia Pisana e Clarissa Marchese. Ringrazio Sonia per la sfida e nomino Giulia Garazio, Giorgia Pisana e Paola Fulano. Ringrazio Valentina Migliani per avermi nominato, nomino Valentina Tazzitano, Stefano Lautoni, Alessio Felcini e Federico Pergucci.